I carabinieri di Cittadella hanno eseguito quattro misure cautelari emesse dal GIP del Tribunale di Padova per spaccio di stupefacenti in concorso. I carabinieri infatti hanno scoperto una fiorente attività di spaccio tra dicembre 2023 e maggio di quest'anno tra Cittadella, l'Alta Padovana e le province di Treviso e Vicenza. Le indagini sono partite dall'arresto ad agosto del 2023 di un uomo di Galliera Veneta nuovamente arrestato nel gennaio di quest'anno e dopo quest'ultima operazione i carabinieri sono risaliti ad altre persone coinvolte in questa attività. È stato calcolato che consisteva in circa 30 cessioni di droga al giorno. Uno di loro, in particolare, risulterebbe aver trafficato non meno di 150-200 grammi di cocaina a settimana, in tutto due chili nel periodo in cui è stato pedinato. Molto particolare il fatto che decine di clienti pagavano gli acquisti con bonifici bancari. Nel corso delle indagini, in distinte occasioni, i militari di Cittadella hanno eseguito due arresti sequestrando cocaina, conti bancari e un'auto BMW.